Non uno, non due, non tre, quattro. Cioè avete capito? Quattro. Quattro! Ragazzi, se volete sapere che cosa ho acquistato da Zara, ovviamente non dovete far altro che guardare questo video. Ma prima, vi prego, lasciate un like di supporto perché ho un problema. Ma soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di Heller Channel. Mi sa che sono un po' in vena. Va bene, dai. Noi ci vediamo dopo la sigla. Raga, cioè io vi faccio vedere. Sono tutti pieni, eh. Cioè, pieno, 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 pienissimo. Questo non riesco manco ad alzarlo. Tiriamo fuori una alla volta così vi farò vedere che non scherzo quando vi dico che ho fatto un tantiniello di acquisti da Zara. Allora, spero di riuscire a registrare anche la parte di try-on di questo video, in modo tale che vi faccio vedere anche perché li ho acquistati. Oddio, che è successo a questo? L'avevo messo su con la molletta. Vabbè, non ce l'ho così, non si vede. Allora, prima di tutto, ragazzi, io seguo una blogger, una fashion blogger, che si chiama Laura Blair. È molto magra, mi piace molto il suo gusto nel vestire, nello scegliere gli abbinamenti, eccetera. Alcune cose, altre cose proprio a me che, cioè, lei è alta 1,80 per cui le sta tutto divinamente. Io che sono bassa 1,60, giustamente certe cose magari non mi stanno proprio benissimo e quindi evito di comprarle. Però, quando lei fa degli haul, la prima cosa che vado a vedere è appunto dove ha acquistato le cose e soprattutto mi fa innamorare quando fa gli haul di Zara. Ho provato a fare due o tre acquisti anche da H&M, prendendo spunto da un suo video haul, però sinceramente non mi vestono come vestono lei. Per cui, in realtà, però Zara invece mi veste molto bene, non come veste lei, però abbastanza, in maniera abbastanza simile e soprattutto mi piace come veste me, per cui. Quindi, vi dicevo questa cosa perché io prendo spesso, prendo tanto spunto da quello che lei fa vedere. È ovvio, non compro tutte le cose che compra lei, però questa camicia la dovevo avere per forza. Quando l'ho vista su di lei, io me ne sono innamorata, ma quando poi l'ho vista su di me, non c'è stato proprio verso di lasciarla giù. Sapete che mi piacciono le camicie, le camicie chiare, soprattutto le camicie quelle un pochettino lavorate o cosa. Lo so che non sono sexy, ragazzi, ma io non sono sexy, non sono una sexy diva, una sexy... Io sono semplicemente una ragazza a cui piace vestirsi bene. Questa l'ho pagata a prezzo pieno 39 euro, però secondo me li vale tutti. È in pizzo, ha il collettino alto, è una S, la XS non la facevano, ha il collettino alto, le rouge sulle maniche, guardate che belle, e le maniche che comunque sono a palloncino perché hanno l'elastico al polso e le puoi tirar su anche a tre quarti e rimangono a palloncino. Il taglio è, diciamo così, non corto e neanche lungo, ma questa camicia va portata con un pantalone a vita alta e va messa dentro al pantalone. Questo è l'utilizzo che ne farò anche io. Può essere abbinata con pantaloni chiari e può essere abbinata anche con pantaloni scuri in pelle. A tal proposito, appunto, ho comprato anche un paio di pantaloni in pelle e tutti mi direte come se non ne avessi abbastanza. In realtà no, perché? Perché quest'anno ho fatto un pochettino una cernita. Avevo tanti leggings in pelle e di tutti i leggings in pelle neri che avevo me ne è rimasto uno sano. Primo perché ovviamente i leggings si usurano, anche perché non è vera pelle ma è tutta ecopelle, e quindi i leggings comunque utilizzandoli si usurano. Seconda cosa perché comunque sono passata da una S quasi M a un XS, per cui giustamente comunque mi vestono veramente molto molto male. E siccome ho trovato questi, adesso facciamo il sacchetto quello pesante, e siccome ho trovato questi leggings a 19,90, per cui veramente un prezzo che è addirittura inferiore a quelli di Calzedonia, che secondo me vestono anche un po' peggio, comunque comprerò anche quelli perché mi piacciono tanto, già lo so. Comunque li ho provati, mi stanno perfettamente, divinamente, e li ho presi. Quindi leggings, in realtà questi sono pantaloni neri in pelle, io così li avevo già rossi, però ho una S di quelli rossi, questa qua è una XS, appunto in pelle, con la cerniera laterale per ovviamente metterli su bene. Ovviamente non hanno le tasche, però hanno questo disegno sul davanti, che fa sì che anche chi ha un po' di pancetta sembri che ha la pancia piatta. Questi mi piacciono molto anche per quello. Io non ho più questa necessità di far sembrare con la pancia piatta, perché la mia pancia è piatta, però magari in quel momento in cui è un pochettino più gonfietta di altri momenti, posso sempre contare sull'effetto pancia piatta di questi leggings qua. So che ci farò già tutto l'inverno, e quindi ho praticamente un paio di leggings che sono questi, poi ho, cioè un paio di pantaloni in ecopelle che sono questi neri, poi ho un paio di leggings neri che li avevo comprati l'anno scorso e praticamente di pantaloni in pelle o ecopelle o leggings neri non ne ho più, per cui ho fatto bene a comprarli. Sempre per quanto riguarda i pantaloni, non abbinerò quella camicia lì perché no, però anche questi li ho visti in uno dei video di Laura Blair e sono dei joggers. Li ho pagati 30 euro, 29,95, sono meravigliosi ragazzi. Io volevo un paio di pantaloni comodi tipo tuta da poter utilizzare quando mi pareva a me magari uscire a fare shopping così, però da non essere troppo poco stilosa, perché non è che io esco con la tuta che ho su adesso, adesso sotto, nella parte di sotto ho la tuta, però non esco con la tuta se devo andare a fare shopping oppure devo andare da qualche parte. Volevo un paio di pantaloni tipo tuta, però stilosi. Ragazzi ho provato questi, non me li sono più voluta togliere. Primo perché mi fanno veramente, mi cadono benissimo e mi valorizzano ecco, valorizzano le mie forme, valorizzano la mia altezza, quindi non mi fanno tozza e non mi fanno neanche grassa. Hanno questa cavigliera, quindi finiscono così alla caviglia. Sono lunghi, cioè sono ben lunghi, quindi non sono corti tipo sopra la caviglia, ma sono ben lunghi, li potete accorciare appunto facendo un risvoltino uno, perché altrimenti sembrano brutti. Hanno questo laccio proprio a tuta che sta davanti, ma credetemi sono molto belli. Hanno due tasche davanti, una tasca dietro e dentro sono, no, non sono felpati, ma sono morbidissimi. Io non so che materiale sia questo, però è morbidissimo. Morbido e caldo, ma non quel caldo che ci sudate, tipo... No, caldo giusto. E questi io li ho già pensati in un look total white, perché comunque a me piace... Cioè, tendenzialmente io non porto mai pantaloni bianchi, credo che sia il secondo paio che compro, però in questo caso quando prendo i pantaloni bianchi mi piace prenderli per il look total white, quindi non mi piace... Otticamente non mi piace rimpicciolire la parte di sopra e allargare quella di sotto, anche perché io ho quella di sotto che è già abbastanza larga nell'economia del corpo e quella di sopra che è molto piccina, per cui sembrerai veramente così. Quindi però con un total white secondo me ci sta. Infatti per abbinarla a questa in realtà sono due bianchi diversi. Io li ho provati ma stanno e stanno molto molto bene insieme, ma non ne sono completamente certa perché sono appunto due bianchi diversi. Questa è una magliettina bianco ottico, il tessuto è un tessuto caldo, non so che tessuto sia, sembra quasi... Cioè dalla morbidezza sembra avvicinarsi molto al cashmere, ovviamente non è cashmere, non è neanche misto cashmere. È un... L'ho pagata a 9,95, quindi 10 euro, è una S ed è deliziosa. Guardate le manichine a palloncino. Mi piace anche il fatto che sia praticamente molto molto caldo questo tessuto e che la manica sia corta. Non è crop, quindi non è molto corta, ma non è neanche di quelle magliette lunghe che praticamente te le devi arrotolare dentro i pantaloni. Questa sta benissimo, nella maniera più assoluta, anche con il pantalone, quello nero in pelle, perché secondo me dona tantissimo. Ma sta benissimo anche con questi, sempre leggings. Ho fatto la scorta, perché come vi ho detto, ho scoperto che non me ne va più bene uno e ho voluto prendere questi leggings intattati. Lo appoggio un attimo giù, ma è rimasto un capo dentro. Anche questi, 20 euro, sono bellissimi. Io mi auguro di riuscire a farvi le riprese dei vestiti indossati, perché sono veramente belli, molto belli. Hanno le cernierine davanti, Ecco, è vero che i leggings non si usano come pantaloni, quindi bisogna sempre mettere una maglietta lunga, perché? Però vi dico che il tessuto di questi leggings e anche il modo in cui sono fatti non danno fastidio, cioè non dà fastidio, non sembra che andate in giro con le calze, non sono minimamente trasparenti, non si intravede minimamente la cucitura degli slip sotto, se li portate, io porto il tanga, per cui comunque non si vedrebbe, e assolutamente aderiscono alla pelle in maniera perfetta. Questa fantasia, tra l'altro, è una dei must have di quest'anno. Si può abbinare, come vedete qua, ha delle righe bianche, e si può abbinare con questa maglietta bianca. Io la abbinerò anche con qualcosa di metallico oro, quindi magari tipo una cintura oro, o anche semplicemente una collanina oro, degli orecchini importanti oro, o una spilla oro, perché ho visto degli abbinamenti che mi piacciono veramente tantissimo. Anche questi, secondo me, durante la Fashion Week io li utilizzerò a chiodo, perché questo genere di pantaloni è il genere che ti permette di andare in giro tutto il giorno, comoda e super stilosa, anche quindi elegante. Un altro capo che ho preso per la Fashion Week, forse qua ho veramente un po' esagerato, però quando l'ho visto indosso, quando l'ho indossato e me lo sono visto indosso, ho detto no, questo lo devo prendere, perché effettivamente è molto stiloso, ed è molto Heller. È questo abitino in ecopelle, è una XS questa e mi sta perfetta, con le maniche a palloncione, come si usano adesso, ed è un abitino mini. È sciancrato sulla vita, ha il bordo tagliato a laser, a vivo, il taglio a vivo dei bordi, quindi non è rifinito. Le rifiniture ovviamente sono solo sullo scollo, lo scollo è uno scollo rotondo, e praticamente aderisce benissimo, perché siccome ha queste pants qua sopra, ha le pants per sciancrarlo in vita, aderisce benissimo proprio al corpo, mi fa un bellissimo fisico, mi valorizza tanto, e secondo me anche sdrammatizzato, con i miei boots, sempre di Zara che li ho comprati l'anno scorso, sta benissimo ed è super stiloso, quindi anche questo io credo che lo vorrò utilizzare per la Fashion Week. E se mi seguite su Instagram, sicuramente vedrete storie e scatti tratti dalla Fashion Week. In ultimo, ma non di minore importanza, anzi tutt'altro, io sono andata da Zara proprio per questi. Io so che qualcuno di voi mi insulta, ma non insultatemi, perché tanto io me ne frego, e faccio quello che voglio. Allora, adesso poi li taglierò, questi cartoni, vediamo, cerchietti. Allora, ho preso questo, sempre visto nel video di Laura Blair. Questo è molto, molto, molto carino, si può utilizzare, vabbè, io adesso ho la, la, lo chignon grosso, però, guardate che bello. Anche con i capelli sciolti e anche tirando indietro completamente la frangia, è veramente bello. E dà al look, immaginatevi anche un total black, non so, lo immagino anche con questo vestitino qua, praticamente conferisce al look, veramente un, lo impreziosisce di molto, ed è un semplicissimo accessorio. Questi cerchietti sono piuttosto costosetti. Questo qua l'ho pagato 13 euro, però è veramente bellissimo e io sono sicura che anche per fare il tutorial così, comunque mi, boh, mi piace, anche esteticamente è anche bello da tenere su, anche per andare agli appuntamenti, per andare in giro, anche se magari non hai avuto tempo di lavarti i capelli e li hai un pochettino, io cerco di averli sempre super puliti, a volte mi capita magari di andare a Milano due giorni di fila, li lavo una volta ogni due giorni e quindi il terzo giorno se non li lavo sembrano un po' appesantiti, non arrivo mai coi capelli vonci, però appesantiti sì, però anche mettere una cosa così, diciamo che distrae un pochettino dal fatto che hai i capelli un pochettino che sono da lavare e invece ti fa, cioè ti da proprio, ti conferisce tanta ricchezza all'outfit e al look totale. E poi c'è quest'altro che veramente raga, io non so perché, in realtà ero entrata per prendere quello color argento, quindi con, adesso vedrete com'è questo, lo volevo in argento, era leggermente diversa la trama, erano leggermente diverse un po' di cosettine, però io lo volevo in argento. Poi l'ho provato, lo volevo in argento perché appunto l'avevo visto nel video di Laura Breh, Blair in argento, tenete conto che lei è un castano chiaro, anzi un biondo scuro, più che un castano chiaro, e quindi in argento le stava veramente benissimo. L'ho visto in argento, l'ho preso, me lo son provata, non mi convinceva tantissimo, poi mi sono provata questo. Cioè raga, che cosa non è questo cerchietto? Cioè è meraviglioso, è meraviglioso ed è in oro, no, non dirmi che è caduta, è una pietruzza per favore, no, 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 ho il terrore che si levino le pietre perché giustamente se si levano le pietre poi perde proprio tutto il suo bello. Ok, questo qua è fantastico raga, ma veramente fantastico. È come se fosse una corona, non so come spiegarvi, e io l'ho provato con i capelli sciolti, con i capelli tutti indietro, con i capelli a caschetto, l'ho provato in tutti i modi, ma anche così con la cipollona, mi piace tantissimo. È un accessorio che dà veramente tantissima importanza al viso, vi incornice il viso, per cui quando magari fate un trucco particolare o vi volete appunto far vedere bene in viso, volete attirare l'attenzione su questa parte del corpo e magari sotto lasciate un total black o un total white o comunque un outfit che non è così tanto, diciamo, interessante, questo è proprio the best. E siccome durante la Fashion Week è anche bello poter utilizzare, poter usare un pochettino di più, ecco, diciamo che noi che siamo su YouTube ce ne freghiamo, usiamo sempre, non solo durante la Fashion Week, però durante la Fashion Week, soprattutto quando vai ai fashion show oppure ai red carpet oppure addirittura ai party, è anche bello usare un pochettino di più per non essere confusa tra tutte le persone che vanno ai party, poi lì ci sono i fotografi per cui magari ti fanno la fotografia proprio perché è un accessorio interessante, è un vestito interessante. Ragazzi, io non ho saputo veramente resistere, anzi, mo me lo tengo e faccio la chiusura del video così. Bene ragazzi, se il mio haul vi è piaciuto, vi chiedo di lasciarmi tanti tanti like di supporto, lasciatemi anche un commentino dicendomi qual è il pezzo che avete preferito di questo mega super giga haul e fatemi sapere se qualcosa di questi capi che vi ho fatto vedere magari l'avete già acquistato anche voi oppure no. Per altri capi io aspetterò ai saldi perché ho visto proprio anche sul sito ma anche in negozio ho visto delle cose che mi piacciono tantissimo, questa collezione di Zara è veramente meravigliosa quindi li acquisterò quasi sicuramente ovviamente aspetterò un po' i saldi perché già così insomma una bella cifretta l'ho spesa. Per cui se siete curiosi di sapere che cosa acquisterò da Zara con i saldi non dovete far altro che iscrivervi al canale e soprattutto attivare la campanella delle notifiche in modo tale che YouTube vi aggiornerà automaticamente ogni volta che pubblicherò un nuovo video e quindi non potete perdervi quello dei saldi. a me non rimane che ringraziarvi con tutto il mio cuore di essere stati con me fino alla fine di questo video vi mando il solito mega mega bacio e tantissimo ma tantissimo amore. Outro Grazie per la visione!